Continuano i webinar organizzati da Granda Team e Ciri Agricola. Ancora una volta parliamo di dati che nella Daily Farm devono diventare informazioni utili per prendere decisioni efficaci. In particolare si parlerà di come gli UFC siano un dato tecnico-economico che può aiutarci a tenere sotto controllo il trend dei ricavi della stalla. Insieme a Paolo Grende, amministratore delegato di Ciri Agricola, e Cristian Arrota, specialista d'economia aziendale Deiri, ci sarà con noi il 13 maggio Christopher Ferri, giovane allevatore, farm manager dell'azienda Fratelli Ambrosini, che racconterà la sua esperienza sulla gestione e sull'analisi degli UFC. Ciao a tutti, sono Christopher Ferri e insieme a tre miei cugini gestisco l'azienda agricola Ambrosini in provincia di Cremura. Mi occupo principalmente della gestione dell'allevamento, della raccolta e inserimento dei dati da poter discutere qui con sui. Il 13 maggio, al webinar Granda Team Ciri Agricola, vorrei condividere con voi come monitoro la produzione delle mie bovine, appunto sempre di più all'efficienza. Grazie a tutti.